Anno inizio lunedì le elezioni dell'Istituto Diocesano di Teologia Sant'Agostino che è sede in via San Martino II ad Acireale. Il primo appuntamento si terrà però a Giarra nella parrocchia San Francesco d'Assisi con un intervento di Suor Daniela del Gaudio della Pontificia Università Urbaniana. Oltre che ad Acireale le elezioni si svolgeranno pure nel centro parrocchiale di formazione teologica Paolo VI di Piedimonte Etneo. Il prossimo incontro è previsto per il 12 novembre.